Perseguitavano rispettivamente la compagna e l'ex moglie, per questo sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. I due uomini di Foggia e Lucera sono accusati di stalking. In manette è finito un 57enne originario di Manfredonia, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, dopo 20 giorni di convivenza, aveva iniziato a maltrattare la donna, tanto da indurla e interrompere la relazione. La donna, però, dietro il pentimento dell'uomo, è tornata con lui. Il 57enne ha ripreso però a picchiarla, ossessionato dalla gelosia. La vittima ha così deciso di abbandonare definitivamente il suo ex compagno, stanca di essere costantemente maltrattata e umiliata. A San Ferdinando di Puglia, invece, i militari hanno arrestato un 56enne. Il provvedimento è stato emesso dal GIPO e del Tribunale di Foggia dopo la denuncia presentata da una donna, ex moglie dell'indagato, per episodi di stalking subiti durante l'anno. Il primo episodio risale al 14 luglio scorso, quando l'uomo minacciò di morte il nuovo compagno dell'ex moglie, minacce ribadite il giorno successivo. Il 7 agosto scorso, invece, lo stalker ha dato fuoco all'autovettura della donna.